Signora, ci racconti un po' la situazione. La situazione è questa, che è più di tre anni che si vive in questo modo. Spaccio, ci sono tutti i bambini, c'è la sporcizia che nessuno la toglie. Abbiamo fatto telefonata al comune, rispondono sì, 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 sono venuti a visionare tutto, niente, non fanno niente. Il sindaco Nardella ha 5 milioni di euro e per le periferie non fa niente, come se le case a noi ce le avessero regalate. E mille euro si spende, mille euro l'anno per mettere le case per i topi, perché è pieno di topi e di sporcizia, non si sa più come ci si deve comportare, non si sa più cosa si deve fare, non si sa più. Lei dalle finestre che cosa vede la sera? Io vedo tutto, lo spaccio, vedo la sporcizia, vedo tutto, 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 tutto. È una cosa vergognosa, vergognosa, veramente. Ovviamente avete paura anche? Eh certo, la sera dopo cena, come si fa? Ma poi c'è un'asle qui, qui c'è un'asle dove viene l'ambulanza con tutta la mota, neanche la strada è stata rifatta. Io capisco che il palazzo l'è fallito, per l'amor di cielo, ma meno che tengano pulito. Cioè io non si sa più che fare, ho fatto duemila telefonate, duemila telefonate, l'assessore non c'è, quello non c'è. È vergognoso che ci hanno abbandonato in questo modo. Proprio non si sa neanche cosa dire, è veramente una cosa allucinante. Siringhe si trova su marciapiedi, di sotto, di sotto, di sotto, di sotto.